Cappello e frusta in dotazione, borsa a tracolno in spalla, è un tema musicale epico diventato iconico. Se c'è un personaggio di finzione che rappresenta l'essenza del genere d'avventura, con la A maiuscola al cinema, quello è senz'altro Indiana Jones, interpretato dal sempreverde Harrison Ford, che a 15 anni dal tanto criticato Indiana Jones e il teschio ricristallo e alla veneranda età di 80 anni, torna a indossare i panni dell'archeologo creato da George Lucas e Philip Kaufman nel quinto capitolo del franchise, Indiana Jones e il quadrante del destino. Nel 1969, mentre gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica sono nel pieno della corsa allo spazio, il professor Jones, ormai prossimo alla pensione, riceve la visita di una scaltra cacciatrice di tesori, Elena, figlia di un suo vecchio amico e collega archeologo. Al fine di recuperare le due parti di un antico artefatto costruito dal matematico Archimede nel III secolo avanti Cristo, Elena convince il leggendario Indiana Jones ad imbarcarsi per un'ultima grande avventura, che li vedrà fronteggiare un astrofisico nazista convinto di poter piegare le leggi dello spazio e del tempo grazie al meccanismo di Antichitera, o Quadrante del Destino. Pur essendo orfano per la prima volta di Steven Spielberg alla regia e George Lucas alla sceneggiatura, due garanzie che hanno reso grande il personaggio nella storica trilogia anni 80, Indiana Jones e il Quadrante del Destino spazza via ogni scetticismo sull'autenticità del prodotto e la sua natura anacronistica e meramente commerciale con un colpo di frusta energico e deciso, degno di un eroe senza tempo, più anziano, ma non per questo più stanco, che dimostra ancora una volta perché non esiste e non esisterà mai un altro Indiana Jones. Dietro la macchina da presa, d'altronde, c'è un regista come James Mangold che di azione, avventura ed eroi crepuscolari, vedi l'epico Logan, se ne intende come. Viaggi internazionali in compagnia di spalle irriverenti e spigliate, inseguimenti, nazisti, misteri da decifrare, nazisti, tesori da recuperare, sovrannaturale con un pizzico di terrore e la musica di un maestro come John Williams per emozionare ed esaltare. Tutte costanti presenti anche in questa nuova avventura, ma davvero basta solo questo per realizzare un buon capitolo canonico di Indiana Jones? Ovviamente no, visti i dati anagrafici del suo attore protagonista e l'evoluzione del cinema di intrattenimento, ma nelle idee del nuovo regista e degli sceneggiatori non c'era certo l'intenzione di creare un'opera rivoluzionaria o impegnata che stravolgesse l'essenza o rendesse Indiana Jones ciò che non è o che non può più essere, né tantomeno il tentativo di inseguire un'operazione nostalgia fine a se stessa. L'ultimo capitolo della saga omaggia la sua mitologia con rispetto, equilibrio, cuore e amore, come dimostra la fotografia calorosa e avvolgente, contestualizzando. Indiana Jones, con tanti anni alle spalle, è un personaggio ormai cambiato, è diventato un eroe duro, cinico e disilluso che riflette sul passato, l'inesorabilità del tempo e l'ingiustizia del destino, dimenticandosi però di una preziosa lezione degli antichi, homo faber fortune sue, l'uomo e fautore della propria sorte. E allora, per ricordare questa importante massima e per contrastare, stuzzicare e rivitalizzare questo Indiana Jones, fuori dal tempo, ci pensa Elena Shaw, interpretata dalla Phoebe Waller-Bridge della serie Fleabag, la migliore delle companion che si potesse affiancare all'archeologo, una versione giovane di Indiana Jones al femminile, più sarcastica, egoista, furba e imprevedibile. Il rapporto tra i due protagonisti, a metà tra padre e figlia e maestro e allieva, è talmente ben scritto da riuscire a costruire un'evoluzione e un'influenza bidirezionale. Da un lato c'è l'insegnamento di Indiana sui compiti e le responsabilità di un vero archeologo, dall'altro c'è quello di Elena, la scoperta della leggerezza e dell'entusiasmo verso l'ignoto, anche e soprattutto nel corso della terza età. Non tutti i ruoli della pellicola però godono della stessa attenzione. Il villain di Mads Mikkelsen è alquanto monodimensionale e non si discosta poi tanto dagli stereotipi degli antagonisti nazisti fanatici. I comprimari, nuovi come l'esperto subacqueo Reinaldo di Antonio Banderas o vecchi come il Salla di Jonathan Rice Davis, si limitano ad una semplice comparsata, senza lasciare una traccia distinguibile. Era comunque quasi impossibile eguagliare l'energia, la tensione e il sense of wonder dei primi tre capitoli, ma al netto di una formula narrativa semplice e già vista e rivista, una durata eccessivamente diluita e un finale che potrebbe risultare alquanto divisivo, Indiana Jones e il quadrante del destino è il miglior risultato che si potesse raggiungere con il materiale a disposizione, che regala una conclusione degna ad una leggenda della storia del cinema. Il video termina qui. E voi cosa ne pensate di Indiana Jones e il quadrante del destino? Fatemelo sapere nei commenti. Grazie a tutti.